Allora Mirko, ci siamo, è arrivato il momento, cos'è l'UV? Dacci qualche informazione in più. Sì, ci siamo, tutto è pronto, dal 22 al 24 ottobre a Bari, preso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, l'UV, Fiera dell'Uva da Tavola, la prima fiera in Europa dedicata a questo importante comparto, un'occasione unica per tutti i produttori, gli esportatori, in generale gli operatori della filiera, che in questo modo potranno conoscersi, fare business, approfondire tutti i temi che riguardano il comparto, in generale tracciare una direzione per il futuro del comparto. Il biglietto di accesso è gratuito, potete scaricarlo dal sito l'UVFiera.com, io vi invito numerosi, non mancate. Presidente, quanto è importante ospitare l'UV all'interno della nuova Fiera del Levante? L'UV è importante non solo perché l'ospitiamo, ma perché abbiamo collaborato per la creazione proprio della Fiera, e da lì partiremo con un progetto che è quello di tutta la filiera dell'UV, che visto l'importanza che ha come prodotto all'interno della nostra economia, penso che sia strategico, importante e fondamentale costruire il tavolo tecnico proprio all'interno della nostra regione, e la Fiera del Levante è sicuramente il luogo più adatto dove andare a promuovere questo tipo di attività. Di conseguenza la connessione che dobbiamo fare, che stiamo facendo tra chi ha avuto l'idea, la nuova Fiera del Levante, che poi è la piattaforma su cui sviluppare l'attività, e la regione che ci ha creduto, penso che sia il connubio perfetto da andare poi ad implementare con Union Camere, Cane di Commercio, associazioni di categoria di produttori, per rendere questo evento non solo un evento all'anno zero, ma sicuramente un evento strutturato che deve durare nel tempo e che deve avere una valenza a livello nazionale e internazionale.